Le più le più le più le più le trovi Grazie a tutti per essere qui, sono sempre numerosi e vi confesso, devo dire che sono emozionato in queste serate l'emozione è al massimo anche perché abbiamo con noi due straordinari maestri due straordinari ballerini non hanno bisogno di tante presentazioni perché sono conosciutissimi ovunque, in tutto il mondo vi chiederei solo di accoglierli con un grandissimo applauso Mike Petrovic e Marco Miglielic 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 Marco Miglielic